bella tutti i forniters benvenuti e bentrovati su leon tube in questo video vediamo come fare l'incarico raccogli armi da giocatori eliminati giocatori eliminati parliamo semplicemente dei player quindi non gli npc tutte le armi che troviamo in giro dobbiamo raccoglierle per cercare di vedere se le hanno lasciate i giocatori eliminati o se sono lì per caso adesso io ne ho già raccolte quattro tutti gli avversari che andiamo eliminare preso ma non eliminato è arrivato lo scudo eccolo qua eliminato andiamo a raccogliere le sue armi una due tre questo ce lo facciamo e così via si va avanti ragazzi fino a completare la missione se il video vi è piaciuto questo d'aiuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao 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 ciao